E' partita lunedì 15 febbraio alle 13 la corsa alle adesioni per le vaccinazioni anti-covid degli over 80 in Lombardia e fin dai primi minuti il nuovo portale online dedicato alle iscrizioni è stato letteralmente preso d'assalto. Alle 13.10, solo 10 minuti dopo l'apertura infatti, erano già più di 45.000 le persone virtualmente in fila e durante la giornata più volte il sito ha subito dei blackout temporanei per le troppe richieste d'accesso ricevute contemporaneamente. In più i ritardi nell'invio dell'SMS con il codice necessario alla validazione del numero di cellulare inserito hanno fatto sì che in molti perdessero la priorità acquisita. Ma anche in farmacia i problemi non sono mancati, tanti professionisti che si sono lamentati del fatto che il portale dell'ATS specifico per le farmacie fosse bloccato. Dalla regione intanto nel pomeriggio sono arrivate le prime giustificazioni. Al momento ci sono dei rallentamenti nell'invio dell'SMS di convalida, si legge nella nota, ma stiamo risolvendo il problema. Si ricorda comunque che l'ordine di registrazione non corrisponderà all'ordine in cui si verrà vaccinati. Alle 15.15 comunque, dopo poco più di due ore dall'avvio del servizio, le adesioni raccolte sul portale erano 12.095 sui circa 700.000 anziani che hanno diritto alla vaccinazione.